Più passano gli anni e più capisco che, se hai dei veri amici dalla tua parte, tutto è possibile. Carrie, tavolo per tre? Il futuro non è scritto, perché siamo tutti in una fase diversa della vita. Stasera dai il meglio di te stesso. Ciao! Dai, venite! Tu quante app di incontri usi? Sto aspettando che creino un sito di incontri chiamato Ecco il maschio che stavi cercando, Sima. Questa è X, X, non è me. Carrie, ti sei mai masturbata in un luogo pubblico? Non da quando Barney si è chiuso. Ciao, tesoro, sono arrivata. Mi ricordo quando tenevi i baglioni nel forno. Ognuno di noi ha strade che non ha preso. Non si può avere tutto. No, si può. È solo più difficile. Non vi piace come siete? Uscite da quella gabbia e cambiate! Ed è così che dopo tanti anni e tanti cambiamenti... Tu sei sempre tu. Ciao, adorate!